è rosso perché ci sono tanti semafori? li cambierò io ottimo ora saranno solo verdi sono così veloce vado a fuoco che traffico che è successo? un incendio lo spengo io mi servono attrezzature da pompieri fatto ora ripuliamo tutto crusher stai bene? non credo ti sistemo io l'incidente è stato a colpa mia ho messo io tutti i semafori verdi dobbiamo sistemarli cominciamo con questo dividiamoci funziona e ora questo fatto crusher è pericoloso correre così in città facciamolo fuori città seguimi quindi avrai è quella è la